Da dove nasce la voglia di sapere? Il desiderio di progredire? Quell'intuizione in grado di illuminare anche la notte più buia? Noi italiani da sempre saliamo sulle spalle dei giganti che hanno scritto la storia della scienza. Perché da lassù si vede più lontano, si guarda oltre, si intuisce che forma ha il futuro. Immaginare il mondo che verrà e poi mettersi a realizzarlo per tutti. Anche questo è vivere all'italiana.